Una conferenza stampa itinerante, quella andata in scena a largo del porto di Ortona per presentare l'appuntamento autunnale delle stagioni del mare dalla rete al piatto che vedrà protagonista 25 ristoranti della costa dei Trabocchi. Andiamo ad ascoltare il presidente del FLAG, il costa dei Trabocchi, Franco Ricci e il docente universitario di Terramo, il professor Pietro Giorgio Tiscar. La mission del FLAG è proprio quella di sostenibilità delle attività, quindi facciamo in modo di educare anche il pescatore a catturare quello che serve e non di più, e perché comunque se tu prelevi troppo dal mare certo è che poi è un prelievo, quindi non è che può essere reimmesso. E quindi diciamo che l'idea è proprio quella, dare quello che serve nel momento in cui serve. Quindi l'iniziativa è volta soprattutto a dare un valore aggiunto a questo prodotto ittico che normalmente nella sua stagionalità, visto che se ne trova poi quantità più importanti, il prezzo scende e quindi il pescatore non ha tutto questo guadagno per sostenersi. E quindi in qualche modo diamo la possibilità di vendere meglio il prodotto perché comunque diamo la possibilità anche, e non solo ai ristoratori ma anche alle mazzarie, di venire a comprare il pesce nei luoghi dove viene sbarcato. Il piccolo pescato anche a livello nutrizionale è importantissimo. Assolutamente sì, presenta delle caratteristiche organolettiche, prodotto della piccola pesca particolarmente pregevoli, così come anche tutti gli altri prodotti ittici. È poco impattante sull'ambiente perché le tecniche di pesca utilizzate sono molto selettive e di conseguenza si arreca il minor danno possibile all'ambiente. Poi consideriamo anche una cosa che il pesce della piccola pesca, essendo venduto immediatamente, è un pesce sicuramente fresco e di conseguenza pesce proveniente da altri mari, in confronto a ciò sarà evidentemente di una qualità migliore.